Rinnova te stesso e volta pagina. Chi è l'innovatore? L'innovatore viene sempre attaccato da chi è ancorato al passato. Ecco perché per raggiungere la verità occorre essere un po' eretici e occorre molta forza personale. Da dove ci viene questa forza? Diciamo che la motivazione ci viene da un senso di verità che tutti noi avvertiamo e che è rappresentata da una vocina interiore che sussurra la nostra anima. Questa voce è flebile ma molto persistente. La voce dell'anima è come un poeta, come un artista che combina gli eventi in maniera originale. Infatti essere creativi significa vedere i nostri problemi in maniera diversa. La creatività consiste proprio nel combinare i fatti in modo nuovo utilizzando un particolare atteggiamento affettivo che abbiamo chiamato la conoscenza del cuore. In questo discorso i termini cuore, anima, psiche, inconscio hanno tutti qualcosa in comune in quanto in ognuno di questi termini è riposta una quota importante di creatività inespressa. E la persona soffre quando non è libera di attingere a questo potenziale creativo, perciò finisce per essere ripetitiva e ripiegata su se stessa. Lo scopo della terapia psicologica è proprio quello di renderci liberi dei condizionamenti e dei pregiudizi, diventando consapevoli dei processi che ci determinano. Solo così riusciremo ad essere più liberi. Questo tipo di libertà deriva dalla possibilità di conoscere e di cambiare noi stessi. È qui che dobbiamo rinnovarci, è qui che dobbiamo essere innovatori, seguendo una nuova legge interiore per dare un senso nuovo agli accadimenti della nostra vita. Spesso invece facciamo il contrario. Anziché essere innovatori siamo conservatori. Siamo vittime di una percezione alterata della realtà, alterata da pregiudizi. E allora accade che siamo raccontati dalla nostra sofferenza, mentre con l'atteggiamento creativo noi riusciamo ad esprimere la sofferenza nel racconto della nostra vita. Ma per fare questo dobbiamo coltivare il nostro sguardo inconscio. Molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Buona giornata.